Eccoci qua con un'altra puntata del nostro percorso di storia. In questa puntata conosciamo meglio la Francia di Luigi XIV, il famoso re sole. Eccoci qua, allora lui era il figlio di Luigi XIII di Anna d'Austria e diventa re a soli cinque anni nel 1643 dopo la morte prematura del padre e in quel periodo, ovviamente a cinque anni non è che poteva fare il re, viene proposta la reggenza non solo della madre insieme al primo ministro Guido Mazzarino che era un cardinale italiano successore di Richelieu. Che cosa fa Mazzarino durante la sua reggenza? Innanzitutto cerca di rafforzare ulteriormente l'assolutismo che abbiamo visto nelle precedenti video lezioni essere sempre più forte nei regnanti francesi. Inizia a migliorare la politica estera con diverse vittorie militari tra cui quella contro la Spagna, rafforza il potere economico in Europa. Il problema poi era legato più che altro alla gestione di rivolte contro l'assolutismo che era la gestione delle fronde che non ebbero però grande successo, nel senso che Mazzarino riuscì a sedarle anche se crebbero sempre di più e dedero non pochi fastidi a Mazzarino. L'ultimo successo di Mazzarino fu un matrimonio combinato tra proprio Luigi XIV con la figlia del re ed erede al trono spagnolo, Maria Teresa, quindi lo fa sposare con l'erede al trono spagnolo. In questo caso Luigi XIV ottenne un'importante dote a patto di non salire al trono di Spagna, quindi loro due si sposano, ma Luigi XIV diciamo firmò un documento, un patto per cui si non sarebbe salito al trono di Spagna, ma avrebbe ottenuto una cospicua dote. Ad un certo punto Mazzarino muore, Luigi XIV inizia a governare da solo, senza un nuovo primo ministro perché non nomina nessuno e quindi inizia una fase di grandissimo assolutismo, tant'è che a un certo punto fa rinchiudere la mamma addirittura in un convento, quindi rimane da solo, vuole governare da solo, tant'è che la frase attribuita lì, lo Stato sono io, rappresenta chiaramente questo assolutismo imperante nella sua monarchia. Ecco, vediamo quali sono le caratteristiche di questa monarchia assoluta, sicuramente un controllo su tutto, tutto doveva passare al suo vaglio, non aveva un primo ministro, non aveva una madre che lo aiutava, il potere era centrato su di lui, senza primo ministro, con un consiglio dei re composto dal re e da tre ministri, quello della finanza, quello della guerra e degli affari estri, ma lui controllava qualsiasi cosa, anche la nobiltà per esempio fece costruire una grandissima reggia, la reggia di Versailles, dove aveva proprio fatto convogliare tutti i nobili francesi, in modo di averli tutti sotto controllo e di ad allontanarsi dai propri territori, questo voleva dire diminuire il loro potere, avere tutto sotto controllo. Aveva proprio dato un obbligo proprio di vivere nella reggia di Versailles con tanti vantaggi, una vita fatta di feste, di grandi ricchezze, eccetera, però almeno lui poteva controllare i nobili francesi. Fece una grandissima propaganda della sua immagine, ma questo lo fece anche Elisabetta prima, e utilizzava proprio il simbolo del sole come simbolo divino, lui era proprio diventato un uomo dai poteri sovrumani, addirittura era considerato da qualcuno un re taumaturgo, perché qualcuno credeva che guarisse addirittura delle malattie, eccetera, quindi era diventato veramente, aveva un'aura di divinità attorno a sé, ma lui volutamente aveva fatto un marketing proprio per cercare di essere considerato una divinità come le divinità egiziane o come le divinità dell'epoca. Vediamo il controllo anche sulla chiesa, perché Luigi XIV aveva il potere di nominare i vescovi, quindi poteva scegliere liberamente i vescovi che voleva. Revoca tra l'altro l'edito di Nantes, e questo provoca la fuga di più di 200.000 ugonotti, e diciamo è, inizia a perseguitare i jansenisti, che era un movimento cattolico ritenuto molto pericoloso perché è vicino ad alcune idee luterane, quindi non era il cattolicesimo professato da Luigi XIV. Certo, sicuramente è stato molto importante lo sviluppo economico, scientifico e culturale nell'epoca di Luigi XIV, perché lui lo incentivò moltissimo e per esempio in quell'epoca è di quell'epoca il grandissimo commediografo Molière. Rafforza anche ovviamente la potenza militare della Francia e la politica estera molto aggressiva, tant'è che fa diverse guerre, qua ve le ho menzionate giusto per ricordare la guerra di devoluzione per conquistare le fiambre spagnole, la guerra all'Olanda, la guerra della Lega Augusta, la guerra di successione spagnola, quindi insomma troviamo diverse diverse guerre in cui la Francia cercò di espandersi sempre di più e acquisire soprattutto sempre più potere. Benissimo, io vi aspetto nella prossima puntata, come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale e attivare la campanella per le notifiche, e poi vi aspetto anche sugli altri miei canali social. A presto!